Lunedì della Tana, live.. Lu.. Lulual a lun.. Lunedì della Tana, live Live della Tana il lunedì ��oo.. No.. ja.. no. Lunedì, della Tana, no! Lunedì.. della Tana live.. Lunedì.. della Tana live Lunedì della Tana, live Lle..Li.. sì, lunedì martedì.. mercoledì.. no Lunedì… Live.. dat.. no, lunedì live della Tana lunedì time della lana Allora, lunedì, live della... No, Tana Tutta Tana, Tana tutta Tana No, no, live di lunedì, Tana Lunedì è lunedì, poi ci sono gli altri giorni Lunedì è Tana live, ok Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella Tana del Drago Un video velocissimo per darvi appuntamento al lunedì della Tana La... Al culo Al culo Tutti lunedì, tutti lunedì alle ore 9 Appuntamento... Lunedì della Tana, lunedì, lunedì Il lunedì All'le ore 9, l'ora 21 Il lunedì alle ore 21 appuntamento... All'ora 21, lunedì, lunedì della Tana Lunedì, all'ora 21 appuntamento... Tana del Drago Il Drago nella Tana Il Drago nella Tana alle ore 21 live Live Lunedì di lunedì della Tana live Lunedì della Tana live Allora, aspetta Lunedì della Tana live Alle ore 21 Sì!